Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nell'episodio 3 della Valle con Summer Tortoreto. Allora ragazzi, come state? Stiamo iniziando a fare molte puntate, siamo già alla terza puntata. Ragazzi, oggi ho caricato due shorts, andiamo subito al solo, diciamo, ai video. Ho caricato due video, ragazzi, abbiamo fatto 173 visualizzazioni con uno e 8 mi piace, con quello della parte 2, lo short della parte 2 che uscirà anche dalla parte 3. Poi l'ho fatto dell'Eurolega, come vi avevo detto, l'ho promesso che lo facevo e l'ho fatto. E abbiamo fatto, non so se ora sono aumentate, ma abbiamo fatto 100 visualizzazioni, se non sbaglio. Non ricordo, non va bene. Ragazzi, non lo so, già inizio a non ricordare quello che vi dico, perché... Ah, ragazzi, speriamo che fra poco uscirà forse il messaggio in community che ho mandato, puoi darsi che uscirà. Ragazzi, oggi non siamo fuori di sotto, ma stiamo in camera perché fa veramente dal do di fuori. Allora, ragazzi, oggi, aspettate che qua ci stanno un po' di stracci. Ok. Allora, oggi, ragazzi, faremo... C'era una notifica, scusate. Faremo un, diciamo, parleremo un po' della community e delle cose che porteremo in futuro e anche dell'idea che mi stanno venendo, perché non sono sicuro di quello che... Dopo ve lo dico. Allora, ragazzi, volevo dirvi che stanno arrivando contenuti sul basket, contenuti sul basket, tipo sul calcio, vabbè, non li faccio, perché io, a parte che non ho il basket e non c'è il calcio, non ho voglia di farlo. Cioè, le idee ce le avrei, però ce l'ha un amico mio, l'Ollo712, ce l'ha il calcio, quindi lui di solito si occupa di queste cose, quindi io non lo faccio, il calcio. Ragazzi, vi stavo dicendo, porterò questi contenuti qua sul basket. Poi, ragazzi, stavo dicendo sull'ultima cosa, piccolo spoiler, cioè piccolo spoiler, un'idea che mi sono fatto, che, ragazzi, mi sa che le Hot Wheels, il lavoro delle Hot Wheels, non sarà più presente sul canale. Questa è un'idea, perché... Mi sa di no, ragazzi, perché ci sono tante macchine da farci il lavoro, e poi io vorrei più concentrarmi sullo sport, ragazzi. Più solo sport, su queste cose qua, sulla vale col summer, più su queste cose qui, perché veramente, ragazzi, non penso che andremo tanto lontano con il lavoro delle Hot Wheels, quindi... Prima pensavo che andavamo un po' lontano con questo lavoro, però ora non lo penso più. Quindi, ragazzi, ho deciso volarsi... Questa è un'idea che mi è venuta un lavoro, però non so. Quindi, cioè, ormai penso che sia sicuro che non eliminerò quei due video della macchinetta RT03, quindi non penso che ne manco comprerò le Hot Wheels. Ma non è perché non c'ho più voglia, non c'ho già più voglia, mi sono già stufato. E' perché... Perché diciamo che... C'ho 128 macchinette, ragazzi, quindi... Non è che sia un lavoro che poi farà tanto, perché ora ce l'ho ripensato. Non sarà di sicuro un lavoro che farà tanto, scusami, mi alzo un attimo, che vado a vedere un po' come è fuori, che io non sono uscito oggi perché faceva caldo. Però, chiamo, cioè, c'è un po' di nuvolosità. E... Considerate che è così. La situazione è così, ragazzi. Quindi, non lo so. Vediamo se oggi ne mi spiace. Ma mi sa che sta piovendo, quindi non lo so. Dopo scendo e vado a vedere. Ragazzi, vi stavo dicendo... Questo qui dei video del canale... Non lo so. Però penso che ormai... Oddio, che ormai sia sicuro. Mamma mia. La tendina, la finestra. Non so per niente. Allora, io ormai penso che sia sicuro, ragazzi, che... Che non porterò più quello sul canale, ma porterò altre cose. Che... Allora, ragazzi, io dice, parlavo dello sport, di portare sul canale lo sport. Come quelle cose che ho portato io. Oltre a quel lavoro, ormai assicuro, basket è uno sport, ragazzi. Solo il basket, perché come ho detto prima, l'ho usato il calcio. Quindi io non è che posso prendermi anche il calcio. Perché i contenuti suoi abbiamo deciso che li porta a lui. Cioè, ognuno ha tipo un lavoretto, diciamo, da svolgere. Sia sul canale di gruppo. I quattro player sereni abbiamo cambiato un nome. Perché mi sa che ve l'ho già detto. Siamo diventati i quattro, perché tutti a quattro abbiamo dei canali singoli. Mi raccomando, c'è il canale di Davix che l'ha appena aperto. Vi ho appena... Gliel'ho detto anche nel scorso episodio. Nella parte due, nella parte uno, non ve l'ho detto. Nella parte uno andate a vedere, vi ripeto, se non l'avete visto. Nella parte due andate a vedere se non l'avete visto. Poi, magari, ragazzi, faremo anche... Come vi ridico un'altra volta, faremo anche dei contenuti. per l'estate. Ve l'ho detto nella parte uno, se non sbaglio. Con tutti insieme. Perché mi ha Rex non c'è più e quindi... Cioè, non è mai venuto. Ve lo ripeto un'altra volta. Nello stesso modo, tra l'altro. Che perché ormai non funziona. Diciamo che servono le mail. Quelli che ricevano l'invito per entrare nel canale. E l'invito non c'è. Cioè, ieri... Gli era arrivato. A me risultava che chi era arrivato. Perché c'era proprio il profilo. Che si vedeva che era lui. Poi lui però ha detto che non c'era. Sono nella lista degli inviti. E quindi alla fine abbiamo deciso. Sono passati 29 giorni. 30 giorni perché l'invito dura 30 giorni. Lui non risponde. A questo punto abbiamo detto. Eh, alla fine. Non lo invitiamo più. Basta. Non ce la facciamo, ragazzi. Cioè, noi abbiamo una certa cosa da fare. Non è che possiamo stare là a aspettare che uno viene. Cioè, dobbiamo concentrarci sul canale. Siamo alli singoli su tutto. Cioè, ragazzi. Considerate che abbiamo tutti i canali. Abbiamo un bel po' di iscritti. 22, io. 39. I 4 player serenini. Interessi a seguire se non lo avete ancora fatto. Che siamo per arrivare alla soglia di 40. Poi G-Joxon ha... Allora. Eh, ve l'ho... Ah, ok, ok. Siamo arrivati a Vale col 22. Cioè, io 22. I 4 player serenini. 39. Iscrivetevi. Come vi ripeto un'altra volta. Ho fatto tipo la fotocopia di quello che ho detto prima. E arriveremo a 40. Sicuro, se manca un iscritto. Proprio la fotocopia di quello che ho detto prima. E poi G-Joxon ha... 3, no. 15 o 14. No, scusate, ma non me lo ricordo proprio. Lolo712 ne ha 11, se non sbaglio. E Davix ne ha 4. Quindi in totale faremo un bel po' di iscritti, eh. Faremo più di 50 iscritti, sicuro. No, anche... Oddio, un'ottantina. Più o meno. 25. Stavo un po' a pensare. 90. 90 iscritti facciamo tutti insieme. Proprio, sono stata luce stavolta a fare il calcolo. Quindi vi stavo dicendo questo. Che poi forse non porterò più sul canale quelle cose... Quella... Quella... Cosa sul basket. Su... Le Hot Wheels. Quindi penso che porterò... Stavo pensando ad un album di figurine dell'NBA. Però no. Perché non lo faccio. Quello lo fa Giorgio. Non come lavoro. Li fa Giorgio quell'album. Io faccio più calciatori panini. Ma come ho detto prima, io non posso portare contenuti sul calcio. Quindi... Panini dal 2016-2017, io giuro. Anche se gioco a basket. Ora devo pensare... Devo ripensare un'altra volta a un contento che potrò portare, ragazzi. Perché il calcio non posso. Un po' non lo so, ragazzi. Ci devo pensare. Rifarò un'altra volta il video. Vabbè, vi dico quello che porterò nel canale. Forse lo cancelleremo pure quello. Quindi non sarà più visibile. E lo rifarò sempre, vi dico... Sempre con lo stesso titolo. Poi abbiamo raggiunto la soglia di 10 minuti. Potrei chiuderlo. Ma ho ancora qualcosa da dire. Io sto pensando di fare questo qui. Di fare questi contenuti. Però non lo so. Cioè... Boh, sto pensando, ragazzi. Perché veramente ci vuole tanto per pensare a una cosa... Cioè, mi vengono tutti i contenuti sul calcio, però. Li potrei dire a Lollo712 che li porta sul canale. Sul canale non quello singolo, ma quello di gruppo. Magari se avete voglia scrivermi a mente qualche cosa che volete. Non lo so, ragazzi. Perché non ne ho più palisa idea. Forse potrei fare anche un voto sulla community. Ho scritto che cosa potrei portare sul canale. Tra alcune cose. Però, cioè, appunto, queste cose non mi vengono in mente. Perché anche se vorrei fare un messaggio in community. Non potrei farlo. Perché... Cioè, non riuscirei a farlo. Perché... Non mi vengono idee, scusate. E non mi vengono proprio idee, ragazzi. L'album non c'ho voglia perché ormai non li faccio più, gli album. Beh, un lavoro solo sul canale è un po' poco. Potremmo... Oh! Non dobbiamo portarlo per forza sul canale, sullo sport, sulla vita realistica. Possiamo fare anche un gioco. I giochi, ragazzi, dei pensi, della Supercell. Non so se li conoscevi. Non tutti. Due. No, uno, dai. Uno. Uno. Scusate, è rientrato qualcuno. Poi l'ho mandato un attimo io. Perché, ovviamente, non si può interrompere niente. Allora, ragazzi. Io ho fatto così, proprio. Ragazzi. Tra Browstarts. Allora, io stavo pensando. Clash of Clans. Allora. Bombice. No. Non ce l'ho nemanco. Clash of Clans. Clash Royale. Non ce l'ho. Browstarts. Cioè, ce l'avevo però ora non mi va più. Browstarts. Cioè, Browstarts, sì, lo faccio e ce l'ho ancora. Però non... Clash of Clans potremmo fare. Clash of Clans. Eh, so che non fa... Non è tanto usato ormai. Lo usa Grax. Iscrivetevi. Io sono iscritto a Grax, ragazzi. Ma non penso di portarlo... Clash of Clans, sì. Poi potrò darsi NBA Live. Non lo porterò. Ehm... Poi NBA 2K Mobile lo potrei portare. Ma no, no, no. Cioè, sarebbe un'idea però, eh. Sarebbe un'idea portarla. Poi voi votate, ma io ormai... Ormai... Cioè, scusate. Io ormai non ho tanti iscritti. Cioè, non siamo a livello... A un livello basso con gli iscritti. Quindi io non è che ho un certo livello... Cioè, la community, i messaggi in community forse è ancora un po' presto. Quindi, cioè, avete visto quanto ci abbiamo messo a fare cinque voti. Ancora non l'abbiamo fatto dopo una settimana. E di solito dovremmo crescere un po'. Dovremmo arrivare a cinquante iscritti. Però un messaggio in community io provo a farlo. Ragazzi, chi vi trova questo video... Vi prego, votate perché sono veramente indeciso. Se ragazzi portare Clash of Clans e NBA 2K Mobile tutti insieme. O Clash of Clans e 2K Mobile. Ma penso che porterò la Clash of Clans. Anzi, è deciso, porterò la Clash of Clans, ragazzi. No. No, vi voglio lasciare tutto per il prossimo video, ragazzi. Il prossimo shorts perché voglio farlo a shorts. Ve lo lascio per quello. E ragazzi, ne parleremo in 60 secondi di shorts. Ragazzi, andatelo a vedere poi quando lo farò. Poi farò anche lo shorts, come vi ho detto, della parte 3 della Valle Col Summer Tortoreto. Che lo faccio su ogni parte. Ma sono 14 minuti e 40 secondi. Ora finiamo. Ragazzi, io vi dico solamente iscrivetevi. Iscrivetevi, lasciate like, iscrivetevi, iscrivetevi, magari lasciate un commento. Ragazzi, facciamo così. Taggate, spoiler, voglio lo spoiler. Che signora voglio lo spoiler, ragazzi. Taggate se avete voglia. Se volete, non se avete voglia. Attivate la campanellina se non volete perdervi alle altre puntate della Valle Col Summer Tortoreto. E anche su, ovviamente, lo shorts che farò, proprio, ma non trattandolo, vero. Lo shorts è quello che porterò sul canale. Quindi state attivi e vedetelo. E poi non perdetevi i contenuti, gli shorts. Perché, ragazzi, io voglio assolutamente due lavori. Poi, ragazzi, quando cresceremo, magari ne faremo anche tre. Piccolo spoiler, ragazzi. Perché voglio che veramente cresciamo in questo canale, ragazzi. Voglio veramente che teniamo, voglio arrivare, un obiettivo è 100 iscritti. Vediamo se ci riusciamo. Cioè, il mio obiettivo per ora sarebbe 25 iscritti. Che, cioè, l'obiettivo è il primo, quello più piccolo. Poi, però, l'altro obiettivo sarebbe quello di fare 50, poi 75, poi 50, poi 100, di 25, 25, ragazzi. Anche di 10 in 10, magari, però. Il mio obiettivo per ora è più grande, però, è 100 iscritti. Voglio 100 iscritti, ragazzi. Voglio veramente arrivarci, così, tutti quelli che mi seguono, ragazzi, li farò divertire. Perché più iscritti facciamo, più contenuti porterò. Ricordatevelo, ve l'ho detto anche nella parte 2. Ragazzi, veramente, ricordatevelo. Che più iscritti facciamo e più contenuti portiamo. Fa pure rima. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Bella! Ciao!